Maurizio Caressa Questo è il torneo, quindi ogni colpo veramente è un'adrenalina incredibile, però devo dire che contrariamente ad altre volte in cui in alcuni spot avrei perso un po' la testa, avrei tiltato, qua sono riuscito sempre a giocare con grandissima disciplina, quindi sono molto soddisfatto Che livello di gioco hai trovato al tavolo? Alcuni molto molto forti, altri abbordabilissimi e normali, quindi secondo me basta selezionare gli avversari contro cui entrare, infatti in questi due giorni ho cercato di evitare proprio i giocatori che mi avrebbero potuto mettere in sicurezza Ok ti auguro un grosso in bocca al lupo e buon day 3, ciao grazie